buongiorno amiche e amici buongiorno a tutti allora io stamattina in questa pentola sto facendo un graffare una pasta di lenticchie ecco qua qui ho messo le lenticchie vedete le ho condite con pomodorini sedano poi aglio eccolo qui questo è sedano aglio le ho lavate bene bene in un colino poi le ho messe qui nella pentola con acqua pepe sale non aggiunto olio io l'olio come sempre andrò aggiungere quando impiattare lo metto a crudo queste sono quasi corte un po fiori tolgo e andrà a fare visto che un cotechino non faremo un cotechino e adesso lo lascio qui per la minestra ma dopo allora amiche questo è il piatto finito ecco qua pasta mista con lenticchie sopra abbiamo messo una bella manciata di parmigiano quello è facoltativo a chi piace che mi piace non lo mette bene allora per oggi questo è tutto io vi saluto buon pranzo a tutti buona giornata ciao